Siamo presso l'associazione Atrat Onlus di Taranto, l'associazione trapiantati, ho al mio fianco il presidente Francesco Vincenzo ed il legale dell'associazione l'avvocato Carmine Cua. Ci occupiamo quest'oggi di una problematica particolare, quella delle anticipazioni delle spese che sostengono i trapiantati per visite di controllo o per intervento o per quant'altro. In buona sostanza il trapiantato o la persona che deve essere sottoposta a trapianto, molto spesso va in altre sedi e quindi deve sostenere delle spesse, quindi spesse di viaggio, spesse di vitto, spesse di alloggio e quant'altro. Ci sono tante situazioni in cui ovviamente la persona non può anticipare queste somme, non è in grado di poter anticipare il costo del biglietto del treno, per esempio, perché non hai soldi, perché ci troviamo in un periodo difficilissimo in cui tante attività a causa delle restrizioni imposte dal Covid hanno riportato danni economici gravissimi e allora uno chiede giustamente l'anticipazione. Ovviamente io ti sto chiedendo un'anticipazione con dati di fatto certificati che il biglietto costa tot, che l'alloggio costa tot, quindi non è che mi sto inventando cifre. L'aspetto, la cosa strana è che mentre nel recente passato venivano autorizzate le anticipazioni, ora da alcuni mesi a questa parte ciò non avviene più e questo è un motivo, una domanda che ci poniamo, che poniamo all'asle di Taranto. Presidente, una inversione di tendenza particolare, particolarmente pesante in un momento in cui, lo dicevo, tante attività hanno chiuso e quando io barrista, quando io ristoratore chiudo l'attività non ho i soldi, non ho i soldi neanche per anticipare il biglietto per andarmi a fare una visita di controllo a Roma, Roma, Bologna, Milano, Canicatti, dove volete voi? Allora, questa è una legge che fu approvata nel 2000. Questa legge, chiaramente sentendo gli altri assistiti e roba del genere, fu presentata al Consiglio regionale nel 99 dove portammo delle problematiche, cioè tante persone non hanno la possibilità economica e quindi fu approvata questa legge che dava la possibilità di poter avere degli anticipi sulle spese da sostenere per il trapianto o per i controlli successivi. Dal 2000 a un anno fa questa legge è andata benissimo, tutti i distretti la applicavano, quindi venivano concesse le anticipazioni agli assistiti e chiaramente era un sollievo per coloro che avendo poca disponibilità economica era un sollievo poter affrontare il viaggio senza problematiche. Da un anno a questa parte il distretto unico di Taranto, dell'Asle di Taranto, sta negando queste anticipazioni. Non sappiamo il motivo e non siamo tenuti a saperlo. Io ho cercato di contattare e capirne e saperne di più, però mi è stato detto che il direttore del distretto, il dottor Osvaldo Blasi, ha deciso in tal modo. Mi sono rivolto al direttore generale, no signor Vincenzo, questa è una cosa che lei pensa, però le lettere che arrivano di non autorizzare le anticipazioni ormai sono per tutte le domande che noi presentiamo. In parole povere, prima venivano autorizzate da un annetto a questa parte non più. Perché mistero? Non si riesce a capire il perché. È una decisione presa dal direttore del distretto. Ma la cosa più assurda, ripeto, è che tutti gli altri distretti continuano a concedere queste anticipazioni. L'unico distretto è quello unico di Taranto. Ora io mi domando, scusatemi, siamo un po' logici. Con un periodo di pandemia che abbiamo passato e stiamo passando, con attività chiuse, casse integrazioni, disponibilità economica, si può dire zero per la maggior parte della popolazione di Taranto, è assurdo non concedere. Vuol dire non dare la possibilità a questa gente di curarsi con una legge che è a disposizione dei trabbiantati. Io non lo capisco, non ho risposte, non posso aggiungere altro. Avvocato Carmine Cua, legale di Atrat, è un fatto inspiegabile? Sì, questo rientra sempre in questo, non lo so, in questo clima piuttosto, non lo so, teso che ci sia. Diciamo teso che c'è tra associazione e tra piantati, perché, ripeto, sino a... L'associazione ASL. L'associazione ASL. Perché sì, ma forse anche sino a 7-8 mesi fa, 6-7 mesi fa, Franco, le anticipazioni venivano sempre concesse, da un po' di tempo, niente più, considerato il periodo particolare in cui il cittadino in condizioni di emergenza dovrebbe essere aiutato. In questo caso viene maggiormente, come dire... Penalizzato. Penalizzato. Bene, vuol completare? Sì, io volevo... non è una battuta. Un vecchio pescatore, Tarantino, grande saggio, non era mai andato a scuola questo vecchio. Mi disse una volta, ricordati figlio mio, il sazio non crederà mai al digiuno. Ho chiuso. Bene, o sazio non credo al digiuno, si dice in dialetto, Tarantino. Bene, e allora aspettiamo dall'ASL e in particolar modo dal distretto unico risposte, perché è inspiegabile che mentre prima le anticipazioni c'erano, ora in un periodo ancora peggiore con la pandemia non ci sono più. Noi vogliamo soltanto capire perché, le ragioni, i perché di questa scelta, per chiarezza verso chi soffre innanzitutto e poi per chiarezza verso di noi. Grazie. 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 Grazie.